Siamo reduci dall'elezione più importante che in assoluto esista al mondo, ovvero l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, la vittoria, l'abbiamo visto tutti di Joe Biden ai danni di Trump. Anche nel calcio, naturalmente con le debite proporzioni, ci apprestiamo ad una tornata elettorale importante che riguarda la presidenza del Barcellona dopo le dimissioni quasi forzate di Giuseppe Bartomeu, che ha dovuto praticamente abbandonare dopo la sconfitta clamorosa subita dal Barcellona l'anno scorso in semifinale di Champions League ad opera del Bayern di Monaco, un 8 a 2 indelebile. E poi la rottura quasi definitiva quest'estate con Leo Messi, che però alla fine ha deciso di rimanere in Catalogna. Ma come avvengono le elezioni presidenziali in un club come il Barcellona, che è un club ad azionariato popolare, come ce ne sono altri tre in Spagna, ovvero Real Madrid, Osasuna, Athletic, Bilbao, come ce ne sono altri anche nel resto d'Europa? Sicuramente ci sono delle particolarità legate a questo club ad azionariato popolare. Le spiegheremo in questa pillola formativa e informativa di Le Fonti TV che coniuga sport e business. Partiamo dalle definizioni. Club ad azionariato popolare. Che cosa intendiamo? È molto semplice. I tifosi del Barcellona possono decidere di diventare soci del club attraverso il pagamento di una quota annuale. Una quota che, come vedremo, varia poi a seconda dell'età e partecipare direttamente all'elezione del presidente che avviene a suffragio universale. Quindi una testa, un voto, proprio come ci spiega la nostra prima grafica. Il presidente dura in carica quattro anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. ha un ruolo di garanzia a livello economico. In pratica il presidente del Barcellona non mette un euro in sede di acquisti nella sessione di calcio mercato, ma insieme ai membri della punta direttiva è costretto a ripianare delle perdite nel caso ci fossero. Vediamo ora come si diventa soci del Barcellona attraverso il nostro secondo cartello grafico. Per diventare soci del club ci si iscrive presso la società. Esistono tre fasce, appunto, come abbiamo detto, a seconda dell'età. Alevin, propri piccolissimi, da 0 ai 5 anni, al costo annuale di 44 euro. Poi i ragazzini dai 6 ai 14 anni possono diventare soci pagando 92 euro l'anno e poi gli adulti dai 15 anni in su al costo di 185 euro l'anno. Ma quindi tutti possono diventare soci del Barcellona, anche voi che in questo momento ci state seguendo da casa? Beh, potenzialmente sì, anche se le regole sono diventate un pochino più complesse dopo il 2010, dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic in Catalogna. Ma cosa c'entra Zlatan Ibrahimovic? Beh, c'entra perché nel 2010, proprio in seguito all'arrivo di Ibra, circa 20-25 mila tifosi svedesi si erano associati al Barcellona, seguendo naturalmente il loro idolo, per poi non rinnovare la tessera l'anno successivo. E quindi il club ha deciso di imporre delle regole. Attualmente non basta più compilare semplicemente un modulo online e spedirlo, ma innanzitutto bisogna siglare un papel de compromisso e quindi affiliarsi per tre anni consecutivi al Barcellona. E passati questi tre anni bisogna recarsi direttamente in Catalogna e compilare poi tutti i fogli che decreteranno la missione ufficiale come socio del club. Abbiamo visto quindi come si diventa soci del Barcellona. Ora vediamo attraverso la nostra terza grafica come invece ci si candida alla presidenza del club. Innanzitutto possono essere eletti alla presidenza tutti i soci maggiorenni in carica da almeno 10 anni. Chi vuole candidarsi deve presentare oltre 5.000 firme, esattamente 5.506 a sostegno della propria candidatura. La campagna elettorale dura 7 giorni a partire dalla proclamazione dei candidati ed è una campagna elettorale molto simile proprio alle elezioni politiche. Infatti ogni candidato ha una squadra che lo segue, un sito web, una campagna elettorale che molto spesso riguarda nello specifico il calcio mercato, gli obiettivi del mercato. Dopo questa spiegazione su come si può candidare alla presidenza del Barcellona vediamo la rosa dei candidati del 2020 perché i nomi naturalmente ci sono già. Questo perché le elezioni dovrebbero tenersi entro dicembre visto che a gennaio ci sarà già la sessione di calcio mercato e quindi il nuovo presidente del Barcellona dovrebbe essere già impegnato con i primi acquisti. Vediamoli quindi nome per nome. Abbiamo Victor Font che è uno degli papabili se non il favorito punterà molto sul rilancio della cantera del settore giovanile seguito poi da Tony Freix a Jordi Farre, Agustì Benedito, Luis Fernandes Salà e poi l'ultimo Joan Laporta un nome che naturalmente dice molto in casa blaugrana Joan Laporta che è già stato presidente del Barcellona dal 2005 al 2010 quindi prima di Bartomeu e ha portato il Barcellona sul tetto del mondo proprio con lui e con Pep Guardiola in panchina si è sviluppato il fenomeno della tiki-taka che ha fatto storia che è entrato ormai nei libri di storia del calcio e addirittura Bartomeu nell'anno di Grazia 2009 è riuscito a portare al club ben sei titoli nella stessa stagione tra cui naturalmente la Champions League, la Supercoppa Europea, il Mondiale per club. una squadra di fenomeni, Xavi, Iniesta e naturalmente anche Leo Messi e proprio Leo Messi è un nodo cruciale un punto che dovrà affrontare il nuovo presidente del Barcellona insieme alla riorganizzazione, la ristrutturazione economica del club un club che è in difficoltà e parecchio perché il Covid ha colpito tutti anche un club ricco appunto come il Barça basti pensare che le entrate che derivano dal turismo non ci sono più ovviamente nel 2020 nel 2019 solamente dalla visita del museo del Barcellona erano stati ricavati oltre 220 milioni di euro e ora il club non può fare affidamento più su quel tesoretto la pandemia naturalmente sta colpendo tutti in tutta Europa quindi il presidente del Barcellona chiunque sarà, chiunque uscirà insomma dalla rosa dei candidati che abbiamo visto dovrà affrontare questi nodi spinosi come andrà a finire lo vedremo molto presto il nome è atteso entro dicembre e allora noi vi aggiorneremo naturalmente anche su questa questione voi seguite sempre le nostre pillole formative e informative di Le Fonti TV alla prossima